ciao a tutti è un po che non facciamo qualche tutorial semplice e chiaro per anche i principianti insomma che non ne sanno assolutamente nulla di elettronica e di elettricità quindi oggi ho pensato di farne uno veloce ma che può essere molto utile vedo ancora molto spesso nei gruppi facebook nelle domande che si fanno in giro che ogni tanto qualcuno si trova in difficoltà con questa cosa del contatto pulito quindi con l'esigenza di avere un contatto per fare una porta un comando di un cancello una qualsiasi funzione che richieda il contatto e non la tensione vedo che ancora alcuni si trovano in difficoltà perché non sanno come fare con i sono off sia mini che basic o altre versioni che escono a 230 volte e c'è bisogno di questo contatto io ho già fatto diversi video ho fatto anche il video per modificare il mini a contatto pulito però chiaramente bisogna anche trovarsi nella condizione di avere l'attrezzatura la voglia e la tecnica per fare una modifica oggi invece vi faccio vedere come con un basic r3 come farò vedere nel video o anche con un mini insomma con qualsiasi sono off che conosciamo ad oggi dove hanno quasi tutti l'uscita a 230 volt generare tramite l'utilizzo di un relay finder un contatto pulito quindi solo con due pezzi di filo senza fare nessuna modifica tanto cosa succede che quando dovete montare un sono off per un contatto pulito da qualche parte normalmente c'è lo spazio per ospitare sia al sono off che il relè quindi non dovrebbe essere un grosso problema prima di andare avanti col video vi ricordo di iscrivervi al canale ci mettete due secondi e non vi costa nulla ma mi farei sto un grosso favore vi faccio una domanda perché mi è venuto in idea farò anche un sondaggio nella community del canale youtube stavo quasi quasi pensando di aprire un mio gruppo facebook privato dove hanno accesso i miei iscritti o chi vuole per farsi domande interagire tra di noi però gestito da me non sarebbe male se qualcuno di voi mi volesse dare una mano sarebbe anche ben accetto quindi eventualmente parliamone in privato basta chiacchiere andiamo avanti col video perfetto prendiamo ad esempio questo è un basic r3 l'ultima versione è forse uno dei sono off più economici ad oggi sul mercato però cosa succede che acqua in ingresso vedete nl quindi fase neutro linea d'ingresso mentre in uscita abbiamo l ed n output 230 volt in uscita quindi entra 230 esce 230 dunque io avrei potuto benissimo farlo esplodere farvi vedere che si può rintracciare il relè sulla scheda fare delle modifiche per ottenere in uscita un contatto pulito ma in questo modo il nostro basic r3 non sarebbe più in garanzia e oltretutto non tutti sono attrezzati o hanno voglia di effettuare tale modifica quindi oggi con l'utilizzo di un multimetro una forbice due pezzettini di filo e soprattutto un relè vi faccio capire che qualsiasi sono off che nativamente in uscita a un 230 volt quindi come in questo caso linea neutro o nel caso di un mini la fase in uscita che comunque prendendo un neutro genera sempre un 230 volt vi farò vedere come con tutti questi dispositivi all'utilizzo di un relè potremmo tenere questo fantomatico contatto pulito senza fare nessuna modifica dunque di questo relè ne avevo già parlato in un altro video dedicato che vi lascio qui ma probabilmente o non è stato compreso o comunque non è stato proprio visto il video perché già spiegava come fare quello che facciamo oggi questo relè si chiama 40 52 8 230 volt è un relè che ha una bobina quindi questa roba arancione tutta rotolata è una bobina collegata a questi due piedini quando a questi due piedini arriva una tensione che in questo caso è 230 volte perché è un relè con bobina 230 volt quando arriva tensione un meccanismo dentro si muove e va a far cambiare posizione a questo contatto centrale quindi questo qui è il comune questo centrale cos'è un comune un comune è un piedino dove dobbiamo portare un qualcosa in questo caso noi qua porteremo uno dei due fili del nostro contatto pulito andrà a commutare il contatto tra questi due piedini dove uno è normalmente chiuso che questo è uno è normalmente aperto cosa vuol dire normalmente chiuso normalmente aperto che questo piedino è sempre chiuso quindi questo contatto è sempre chiuso fin quando non viene citata la bobina quando la bobina si eccita sposta questa lamella è il contatto chiuso diventa questo ora per praticità per non farvi fare modifiche vi faccio spendere qualche euro in più ma vi faccio prendere anche lo zoccolo lo zoccolo serve a ospitare il relè vedete si incastra in questi buchi e a replicare tutti i contatti su dei morsetti quindi qui dalla parte della bobina dovremo collegare direttamente l'uscita del sonoff da questa parte abbiamo sei morsetti dividiamoli sinistra e destra perché fanno la stessa cosa vi ho semplificato il tutto segnandovi qua sopra cosa sono i contatti questo morsetto di sopra è il comune questo è normalmente aperto questo è normalmente chiuso quello che vi dicevo che in stato di riposo quindi senza dare corrente al relè è chiuso col comune quindi qui c'è una continuità c'è un contatto chiuso noi cosa faremo collegheremo il sonoff in uscita al relè e poi porteremo i nostri due pezzi di filo che ci servono per chiudere il contatto del citofono del cancello del basculante di qualsiasi cosa che abbia bisogno di un contatto li porteremo a com e a no in questo modo in uscita avremo un contatto pulito gestito dal nostro sonoff con i tempi con lynching in questo caso faremo una prova con 0,5 secondi che è il contatto normale che si usa per dare un impulso quindi ricapitoliamo cosa abbiamo fatto al nostro basic abbiamo portato una fase in ingresso e un neutro in ingresso lo stesso 230 volte che entra da una parte e che esce dall'altra l'abbiamo portato al piedino a1 e a2 che sono i contatti della nostra bobina del relè vedete che si chiamano esattamente a2 e a1 su questo tipo di zoccolo poi qui fuori abbiamo tutto l'ambaradam dell'uscita ve l'ho replicato sullo schemino esattamente come su relè i piedini che ci interessano in questo caso su questo tipo di zoccolo sono il comune e normalmente aperto che sono numerati come 11 e 14 fatto questo abbiamo creato la condizione per generare il contatto pulito che con due semplicissimi pezzi di filo porteremo alla scheda elettronica del nostro cancello in questo caso facciamo due collegamenti e poi lo proviamo insieme ok seguitemi per non perderci nulla cosa ho fatto ho collegato in ingresso sul mio sonoff il 230 volte ovviamente non è attaccato se voi lo state facendo a casa tirate giù corrente staccate tutto e in uscita ho messo due spezzoni di filo che andranno collegati a relè quindi a questo punto con il sonoff abbiamo finito possiamo chiuderlo ora colleghiamo il relais quindi dalla parte della bobina l'unico lato dove ci sono due morsetti vuoti colleghiamo il relais arrivati a questo punto abbiamo alimentato il sonoff in questa fase per essere ancora più semplice non è importante avere rispettato la posizione di linea neutro sia in uscita che in ingresso vedete che in questo caso dove mi dice nl io ce l'ho esattamente al contrario come in uscita ma in questo momento non è importante la polarità perché il sonoff funziona sia con la fase neutro rispettate che invertite non cambia nulla stessa cosa per la bobina del relais ora alimentiamo il sonoff vedete che lui si accende regolarmente ora il sonoff non è ancora accoppiato ma possiamo comunque comandarlo in manuale vedete che se schiaccio il pulsante si attiva e si disattiva se voi guardate il relais vedete che si muove va a switchare la posizione come vi ho detto prima come facciamo ora a verificare questo contatto in uscita prendiamo un multimetro se non sapete usarlo e non ce l'avete vi lascio il collegamento qua sopra al tutorial dove spiego come si usa di preciso questo multimetro che è il mio multimetro che uso per il tutorial che funziona benissimo lo impostiamo su continuità mettiamo il cicalino e facciamo un po di prove come vi dicevo prima abbiamo questo comune dove infiliamo il nostro puntalino e poi abbiamo la scelta tra normalmente aperto o normalmente chiuso in questo momento ho spento il sonoff quindi non sta dando corrente in uscita cosa succede la continuità si sente con un segnale acustico se io vado su no normalmente aperto non ho nessun segnale acustico se vado su nc ho un segnale acustico perché quello il contatto normalmente chiuso nel 99,9 per cento delle situazioni in cui vi serve un contatto dovete averlo aperto quindi ci collegheremo sul normalmente aperto vedete che non suona ma se aziona il suono off suonerà e voilà ora configuriamo un attimo il sonoff nell'app e we link vi faccio vedere l'inching quindi il consenso che viene dato dal sonoff solo come impulso per 0,5 secondi metto il sonoff in modalità di accoppiamento quindi tengo premuto finché il led non inizia a lampeggiare con due lampeggi veloci e uno lento vedete apriamo la nostra app e we link per chi non avesse mai visto la procedura andiamo ad aggiungere questo sonoff basic alla nostra app e we link quindi tasto più blu accoppiamento rapido un dispositivo la nostra solita rete wifi da 2,4 andiamo avanti perfetto trovato lo chiamiamo basic r3 è anche già stato trovato da alexa perfetto lo metto in taverna completa e qui troviamo il nostro basic r3 controlliamo se ci sono aggiornamenti firmware no è già l'ultima versione schermata principale dove possiamo accenderlo e spegnerlo se lo accendiamo mi chiude il contatto pulito in uscita se lo spegniamo me lo apre noi cosa dobbiamo fare dobbiamo andare nelle impostazioni quindi tre puntini in alto a destra lasciare tutto come cerchiamo solo impostazioni di inching dobbiamo abilitarlo e lo lasciamo 0,5 secondi se non lo fosse apriamo il menu e andiamo a scegliere 0 minuti e 0,5 secondi salviamo cosa succederà che il nostro sonoff nel momento in cui verrà attivato dopo 0,5 secondi si apre quindi da app vedete che da solo un impulso questo è l'impulso che serve a dare quel attimo di contatto per far azionare l'elettronica di quello che vogliamo andare a gestire la stessa cosa che fa un apricancello con la chiave l'impulso che fa il radiocomando quello che fa il pulsante a muro è sempre un impulso che noi andiamo a replicare tramite il contatto pulito generato da relè che viene comandato dal sonoff è tutta una catena ma in questo modo riusciamo a ottenere questo contatto pulito con un tempo di 0,5 secondi senza fare nessuna modifica sul basic che può essere un r3 un r2 un r1 che può essere un sonoff mini che può essere qualsiasi dispositivo sonoff o altro che mi dà un'uscita a 230 volt ovviamente per i più pratici sapranno benissimo che se devo ottenerlo da un dispositivo che esce magari a 24 volt basterà fare la stessa cosa ma con un relè a bobina 24 volt ora cosa succede che se vogliamo ad esempio usare tutto questo per aprire il cancello noi dentro il nostro assistente vocale in questo caso quello di amazon troveremo nei dispositivi un dispositivo che si chiama basic r3 ok è spento se lo accendo mi dà l'impulso se lo faccio col comando vocale vedete poi va via adesso c'è un attimo di lag per la risposta se lo faccio col comando vocale cosa devo fare per aprire il cancello in questo caso dovrei dire accendi basic r3 me l'ha acceso mi ha dato l'impulso non ha neanche fatto in tempo a visualizzarmi lo schermo perché è stato talmente veloce che poi è tornato spento ma io non posso dire accendi pesi che per 3 per aprire il cancello quindi su questo dispositivo basic r3 crea una routine nuova col tasto più inserisci un nome e la chiamo cancello avanti quando questo accade quando dico a voce apri cancello avanti quando dico questo cosa succede aggiungi un'azione casa intelligente tutti i dispositivi questo basic r3 me devi fare l'accensione on il tempo di 0,5 secondi va in automatico perché gestito direttamente dall'app e we link salviamo qua possiamo anche spegnere chiudere tutto passiamo solo più al comando vocale apri cancello e voilà noi in questo modo abbiamo creato il contatto pulito da collegare per esempio il cancello e abbiamo creato la routine per comandarlo correttamente molto molto semplice vi lascio tutti i link in descrizione ve li lascio nel mio canale telegram e nella mia pagina amazon trovate tutto su amazon il giorno dopo vi arriva vi fate il vostro lavoretto in completa autonomia e riuscirete a tra virgolette domotizzare anche un cancello o qualsiasi cosa abbia bisogno di un contatto io come al solito vi ringrazio tantissimo se il video vi è piaciuto un bel like iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima ciao da maxidattoli